Allora siamo qui con Carmen Di Marzo, buonasera, non lo so, raccontaci un po' di te, facciamo una visione del tuo curriculum artistico diciamo. Io ho un percorso teatrale molto poliedrico, nel senso che ho cominciato come ballerina, come ballerina di danza classica e moderna a Napoli e poi da lì l'amore per il teatro è continuato sotto varie forme, ho iniziato a studiare recitazione e poi mi sono trasferita a Roma perché ho cominciato subito a fare i primi lavori, ho avuto varie esperienze teatrali sia con spettacoli di prosa che con spettacoli musicali, potrei citare alcuni dei maestri con cui ho lavorato, Nello Mascia, Eugenio Bennato, Pippo Franco, Claudio Insegno, quindi spettacoli sia di teatro comunque impegnato ma anche di teatro più, diciamo, commedie anche più leggere, più brillanti e poi adesso sono impegnata diciamo su vari fronti sia con dei progetti musicali discografici a Milano e poi sto continuando e il mio sogno è il cinema per cui sto continuando anche a battere in quella direzione. Con i fratelli Scicchitano è stato un incontro sorprendente perché ci siamo conosciuti in maniera molto casuale tramite MySpace e c'è stato diciamo un incontro subito molto affettuoso, ci siamo subito sentiti, loro avevano sentito delle mie cose e mi hanno diciamo chiesto di prendere parte a questo loro progetto di grande umanità e soprattutto di grande significato perché sono dei grandi, al di là della musica che è un grande veicolo di comunicazione, di valori umani e non, loro sono delle persone veramente al giorno d'oggi introvabili nel senso che soprattutto danno molto spazio ai giovani e valorizzano, danno molto valore a delle cose che oggi si stanno perdendo, quindi il discorso, soprattutto il linguaggio dell'amore inteso in vari modi e sono delle persone di grandissima generosità, di grandissimo altruismo e quindi io mi sono sentita di abbracciare questo loro progetto innanzitutto per questo, perché loro operano in maniera totalmente gratuita ma soltanto proprio per la loro grande spinta umana verso gli altri e questo credo che sia una cosa meravigliosa oggi e quindi il poter far parte di un progetto che abbia come base questa cosa credo che sia una cosa molto bella. E poi comunque la loro musica è molto semplice, è molto intensa per cui credo che possa arrivare a persone di tutte le età, dai giovani ma anche a persone molto più adulte. A proposito di giovani, ma tu sei giovanissima, posso chiederti quanti anni hai per tutte le esperienze che hai fatto? 25. Ah solo 25, allora vediamo di portare avanti un po' i giovani in questo progetto. Speriamo insomma di poter fare un buon lavoro e di poter soprattutto di puntare molto sui giovani, sui giovani meritevoli, quelli che veramente fanno sacrifici, che vogliono fare dell'arte il loro lavoro, questa è una cosa molto importante. Persone che veramente hanno un percorso, insomma è giusto dare la possibilità a queste persone che comunque si impegnano, studiano, io ho fatto un percorso di studio molto molto forte per cui dopo tanti sacrifici è importante che venga insomma che venga premiata, ecco il talento soprattutto, visto che un po' l'Italia è un paese un po' strano. Senti vuoi parlarci un po' dei tuoi progetti futuri se ci sono oppure dei tuoi sogni, cosa vorresti adesso a parte il progetto con i fratelli Scicchitano? Sì, io adesso sto continuando, diciamo principalmente mi ritengo, sono un'attrice per cui la cosa che spero è di poter continuare a fare teatro perché è la mia linfa vitale e quindi ho dei progetti, da buona napoletana sono scaramantica per cui per adesso non mi espongo, però spero di poter continuare col teatro e poi anche di cantare, di continuare a cantare perché mi piace moltissimo, è una grandissima forma d'arte anche quella in una maniera diversa rispetto al teatro, però spero di poter continuare anche con la musica e quindi insomma ci sono un po' di cose in ballo, adesso vediamo. Grazie tanto, mi sembra di aver detto tutto, il curriculum, tutte le varie esperienze, ringraziamo Carmen e speriamo, ti faccio in bocca al lupo insomma. Grazie, grazie.